L'11 aprile del 2006 negli Stati Uniti nasce la giornata nazionale contro l'abbandono degli animali. Col tempo tale ricorrenza si diffonde in altri paesi, tra cui anche l'Italia. La creatrice di questa festa è Colin Page, che in quanto amante degli animali decide di dedicare loro una giornata intera. Lo scopo è rendere noto tutte le condizioni di vita che devono subire gli animali abbandonati. Vengono presi in custodia dai rifugi, ma qualora non si riuscisse a trovare a loro una famiglia, vengono soppressi, perché purtroppo in molti paesi, tra cui anche gli Stati Uniti, il tempo in cui gli animali possono restare è limitato. Quindi cosa aspettate? Se avete la possibilità di adottare un animale, fatelo più presto. Un altro piccolo contributo, ma sempre utile che si potrebbe fare, è andare nel rifugio più vicino e fare una foto con i suoi ospiti, per poi caricarli sui social, utilizzando l'hashtag National Pet Day. In questo modo si sensibilizza contro l'abbandono e si attira l'attenzione intorno a questo tema, purtroppo ancora molto attuale.